Ciao a tutti, volevo fare questo video per rispondere un po' ai tanti commenti che ho ricevuto su YouTube in merito al video di Da Grande Sarei Frocio. Solitamente non rispondo perché insomma sono troppo concentrato su quello che faccio per avere tempo poi di scusarmene o di dare spiegazioni. Però ci sono alcune domande abbastanza intelligenti, quindi cogo lo spunto per rispondere, per chiarire alcuni punti, ma quelle intelligenti sono poi veramente veramente poche. Quindi così, partiamo con questa rassegna selezionata appositamente da Kin che mi ha dato e vi darà grandi soddisfazioni. Allora, partiamo. Non tutti gay sono femmine. Ho mai detto questa cosa? Ho mai detto questa cosa? Non credo. Da Grande Sarei Frocio racconta una storia. È la voce di un adulto, un adulto gay, scopriamo alla fine, che si rivolge ad un ragazzino i cui atteggiamenti lasciano intendere che da adulto avrà un determinato orientamento sessuale. E il messaggio è accettati, va bene così. Sto parlando ad un ragazzino effemminato dicendogli di amarsi per come è. Non va bene? Non posso darlo? Quando mai detto che tutti i gay sono effemminati? Fra l'altro è la richiesta di un film, un libro, una canzone in questo caso, che debba rispecchiare tutti gli omosessuali, che parte dal presupposto che tutti gli omosessuali siano uguali. Come faccio a rappresentarli tutti? Devo farlo? Posso farlo? No. Voglio dire, noi ci aspettiamo che gli eterosessuali siano tutti uguali? Quando sentiamo una canzone alla radio che parla di una storia, che parla di una persona, qualcuno alza la mano dicendo No, questa persona non rappresenta tutti gli eterosessuali. Io ho raccontato una storia, una storia piuttosto comune, dando un bel messaggio, senza la pretesa di rappresentare tutti. Se qualcuno non si sente rappresentato, è un fatto suo, io di certo non ho la pretesa di rappresentarlo. Ma andiamo avanti. E poi ci chiedono per quale motivo l'Italia va in rovina più totale. Non abbiamo un fottutissimo cantante serio oggigiorno come ne abbiamo avuto in passato. Tra l'altro, decenni fa, i froci venivano fucilati. Oh, rimpangiamo un po' i bei vecchi tempi. Si stava meglio allora, insomma, è vero. Poi, e porco Dio, da grande sarei frocio un frociaccio maledetto. Vabbè, grazie. Che schifo. Brutto problematico insultare così i bambini. Ho insultato i bambini? Assolutamente no. Anzi, sto dicendo loro di accettarsi, qualora appunto da grandi matureranno un determinato orientamento sessuale. E poi, vabbè, diciamolo. Io ho l'impressione, ma qui correggetemi se sbaglio, che gli stessi che dicono proteggiamo i bambini, proteggiamo i bambini dal matrimonio omosessuale, poi da cosa? Ho l'impressione che siano gli stessi che esultano quando affonda una nave piena di bambini, di immigranti. Sai, oppure che questi bambini con le loro famiglie rimangano in paesi dove non possono avere un'istruzione, dove addirittura rischiano di non sopravvivere all'infanzia. Però proteggiamo i bambini, insomma, anche in questo caso proteggiamo i bambini. Poi, pura immondizia, ascoltato una vera artista piuttosto. E mi mette un video di Sia. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Vabbè. Andiamo avanti. Che schifo, vergognati, una canzone orribile. Benissimo. Ma stiamo scherzando? Censurate sta robaccia per piacere. Oh, finalmente invochiamo la censura, che è sempre così costruttiva. Se ne sentiva il bisogno. Io non ho assolutamente alcun pregiudizio sugli omosessuali, ma queste cose mi fanno schifo. Bello, bello. Anche questo si commenta da solo. Commento sotto. Ho paura che mi stuprino. No, semmai quella sarà una fantasia che non si realizzerà. Io la trovo un'offesa verso gli omosessuali. Ma perché? Io ho raccontato una storia. E poi, gli omosessuali femminati non esistono? Adesso dobbiamo dire che non esistono? È una sciocchezza. Questa è omofobia interiorizzata. Anche loro esistono, anche loro meritano di esprimere se stessi e meritano di essere accettati. A parte che la parola frocio è proprio fastidiosa. Ma poi, che idee hanno questi dei gay? Un testo senza base né fondamento. Senza base né fondamento, di nuovo, perché i bambini femminati non esistono. Gli omosessuali femminati non esistono. Parliamo della parola frocio. Capisco che sia una scelta politicamente molto scorretta. Però è una scelta di comunicazione precisa. Se io avessi fatto una canzone politicamente corretta in cui dico no all'omofobia, ok, tutti no, tutti non è vero, molti l'avrebbero apprezzata, ma l'avremmo ascoltata con piacere? Ci saremmo divertiti? L'avremmo condivisa, condividendo così il messaggio di fondo? La verità è che no. Secondo me, se si riesce a dare un messaggio facendo ridere, è veramente un gol. Se si riesce a far riflettere facendo ridere, è veramente un gol. È una canzone che ha vari livelli di lettura. Si apre all'inizio che sembra quasi una presa in giro, è vero, ma dopo si capisce che è estremamente ironica, ma non solo che è autoironica, che è un omosessuale che parla dell'autoironia come strumento di autodifesa. Alla fine dice ci sono passato, quindi quella che poteva sembrare magari una presa in giro, in realtà è una canzone che lui rivolge a se stesso. Ma andiamo avanti. Allora, purtroppo c'è ancora chi dice che gay è bello, e invece devono scoppiare con la bestia a mezzogiorno. Ok. Potrei vomitare. A parte il fatto che se dici frocio, ricchione o nomignoli simili, non sei poi così tanto a favore degli omosessuali. Questo l'ho appena spiegato. Ma poi è palese che questa canzone è stata creata solamente per fare le visualizzazioni. Il messaggio è giusto, solo il fatto che sembra che prendano per il culo queste persone, perché sì, sono persone, che scoperta, eh, rende il tutto un po' finto e decisamente troppo commerciale. Classico pezzo commerciale, in effetti. Classico pezzo radiofonico, il cui video vedrete in prima serata sulla TV Generalista. Sì, un'operazione commerciale, proprio così. Oh my god, ma c'era bisogno di fare una canzone che parla di un bambino che diventa frocio? Evidentemente sì. Perché esiste questa canzone? Non saprei dire, però, insomma, io non mi pongo questi problemi quando leggo costantemente certi messaggi, anche io mi chiedo perché, perché esistono certe persone. Però, a quanto pare, c'è spazio per tutti. Mamma mia, dove stiamo andando? Povera Italia, abbiamo già i profughi, mancano solo orde di gay a invadere questo paese destinato a morire. Oh, beh sì, direi che questo è il problema, in effetti. Il problema dell'Italia sono gli immigrati e gli omosessuali. Tutto il resto è veramente perfetto. Questi sono i due problemi da debellare. Giusto, finalmente qualcuno che lo dice. Poi, innanzitutto chiamare un bambino frocio. Quello è un reato. È un reato. E poi, fra l'altro, dico che da grande sarà frocio, ma queste finezze non mi aspetto che vengano colte. Quello è un reato. Non essere gay, ma sto video dura 5 minuti di agonia e non è nemmeno orecchiabile. Questo, insomma, lo chiedo a chi ascolta la canzone, ma mi sembra che sia una grande sciocchezza. Erano anni che non sentivo una stronzata del genere. Non fraintendetemi, la stronzata non è il messaggio, ma è la canzone nella sua impostazione. Il ritornello sembra fatto proprio con il fine di prendere per il culo qualcuno. È la classica canzone che il bulletto canta al compagno gay. Non è una canzone che ti trasmette cambiamento. Non è una canzone che ti dà un messaggio. Carica, è banale, moscia. L'unica cosa azzecata è il titolo che permetterà a questo individuo di fare numeri perché attira l'attenzione, ma l'obiettivo che doveva avere a per il mio è stato un fallimento. Ricevo ogni giorno messaggi con dimostrazioni di stima di genitori che dicono grazie o di adulti che dicono da ragazzino avrei voluto sentire questa canzone. Ad ogni modo non mi aspetto che piaccia a tutti, ci mancherebbe. Se piacesse a tutti significherebbe che parliamo di un prodotto masticato, digerito, come sono poi la maggior parte dei prodotti pensati per il grande pubblico. Prodotti facili, senza nessuno spigolo, che non danno fastidio a nessuno. Qui invece un messaggio preciso c'è, c'è una presa a disposizione precisa, c'è un messaggio preciso, può non essere capito o può non piacere. Secondo me questi sono da galera. Non credo che ci sia spazio nelle galere anche per i cantanti, purtroppo. Solo gli italiani potrebbero considerarla normale una canzone del genere. Viene considerata normale? Non credo. È la canzone mainstream italiana questa? Magari, mi verrà bene a dire. Magari. Il mio timore è che non lo sia. In questa canzone stai generalizzando troppo. Tutti gay sono effemminati? Dici che crescono sfrante? Ma dove? Non è così non fare di tutta l'erba un fascio. È un testo bruttissimo. Ancora. Io ho detto che tutti gli omosessuali sono effemminati? L'ho mai detto? Ho mai detto che questa canzone parla di tutti? Ma ancora. C'è qualcosa di male nell'essere effemminati? Quindi, questo messaggio, questo commento fa intendere di sì. Perché non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio. È come dire, non tutti gli immigrati sono ladri. Non tutti gli omosessuali sono effemminati. Ma è la stessa cosa? Assolutamente no. Perché, come dico nella canzone, non c'è niente di male. Ma vedo che per tanti omosessuali questo messaggio è troppo difficile da capire. Poi, con tutto il rispetto, ma essere omosessuale è un errore della natura. Beh sì, in effetti c'è tanto rispetto in questa frase. Almeno per me. Poi ognuno esprime la sua opinione senza essere maleducati. Oh, ok. Un bel messaggio razzista mascherato da opinione. Ci piacciono. Viva la gioventù che ascolta da grande sarefrocio. I valori morali sono stati buttati nel cesso complimenti. Sono senza parole. Sono senza parole, scusate. Mi devo riprendere un attimo dopo tanti commenti. Andiamo avanti. Anzi, concludiamo con Si vede che la musica italiana sta cadendo in basso. Quindi io vengo preso come rappresentante della musica italiana. Ma magari! Vorrebbe dire che la musica italiana si studia dei begli arrangiamenti, ha dei contenuti, fa della satira, fa dell'ironia, parla di temi scomodi. Fosse questa la media italiana. E non per dare un giudizio di merito, ma puramente di tipologia. Che dire, è stata una bellissima rassegna. Non so se avrò la forza di farne un'altra. E ne approfitto per ringraziare tutti quelli che stanno ascoltando il brano, tutti quelli che mi hanno scritto. Senza il vostro sostegno non potrei fare quello che faccio ed è l'amore della mia vita. Un bacio a tutti. Ciao.